. Eliminato ballando con le stelle del 12 maggio Ecco cos'è successo . Ballando con le stelle 2018, eliminato 12 maggio, salta lo show su Rai 1. Ieri sera 12 maggio avete fatto serata e non avete seguito la puntata, video, di Ballando con le stelle 2018 in onda su Rai 1? Volete sapere chi è stato eliminato dalla gara di ballo condotta da Milli Carlucci? Sono in tanti coloro che pur non avendo seguito la trasmissione di Rai 1 in queste ore si stanno chiedendo cos'è successo nel corso della puntata del 12 maggio, senza sapere che c'è una clamorosa notizia che riguarda lo show di Milli Carlucci. . Salta la puntata di Ballando con le stelle 2018 del 12 maggio. . 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 Sembrano essere i super favoriti per la vittoria finale di quest'anno. Per scoprire tutte le novità e le indiscrezioni in vista della finalissima di Ballando di quest'anno, vi ricordiamo che questa sera 13 maggio Millie Carlucci sarà ospite in diretta a Che Tempo che fa, la trasmissione di Fabio Fazio in onda dalle 20. 40 su Rai 1, dove si parlerà anche del suo show e di quelle che sono le novità che avremmo modo di vedere nel corso dell'ultima puntata ufficiale di quest'anno che andrà in onda il prossimo sabato 19 maggio in Prime Time.